Amici di Sanremo, buongiorno! Sono le 2.36, il festival è appena finito. Angelina Mango ha vinto, secondo Jollier, terza Annalisa, quarto Gali, quinto Irama. Una classifica che si era già un po' delineata all'inizio della puntata, però ha ruoli invertiti. Jollier era primo e Angelina Mango seconda. I fischi di Sanremo non si giustificano mai, anche se bisogna dare atto che c'è una libertà di espressione. Una volta nei varietà usavano tirare la verdura, adesso siamo un po' più evoluti, indubbiamente. Ma i fischi non erano tanto, secondo me, al fatto che Jollier sia un ragazzo di secondigliano. Proprio perché la canzone, Io bette du be me, carina, ma non valeva una vittoria. Ecco, questo probabilmente. Piaccia o meno il festival di Sanremo, bisogna dare atto quest'anno ad Amadeus che ha creato una macchina perfetta. In questi quattro anni ha contribuito sicuramente a svecchiare gli spettatori del festival dagli over 50 agli under 30. Viene naturale chiedersi a questo punto chi sarà quel pazzo che accetterà di presentare il festival di Sanremo del 2025 dopo tutti i record di Amadeus. Circo ha già qualche nome, eh? Ma così, ve la butto così. Bonolis, l'Alessia Marcuzzi e soprattutto Cattelan, che pare non sia ancora pronto per caricarsi il festival sulle spalle. Bene! Sarà quel che sarà. Intanto io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo presto. Buona musica a tutti. Grazie a tutti.